Non si sono incrociati sul ring, questione di anagrafe, ma una cosa in comune almeno ce l'hanno. Sono nati lo stesso giorno. Efren Calamati, Orlando e Fior di Giglio spengono oggi le loro candeline. 60 quelle di Calamati, 40 quelle di Fior di Giglio. Auguri a entrambi. La storia di Efren Calamati è scandito quella degli anni 80 e 90. Il 25 gennaio 89 al palasporte delle caselle affrontò il francese in Calanchete per il titolo europeo dei superleggeri. Calamati aveva appena 25 anni, era arrivato all'appuntamento europeo con 22 vittorie. Il successo arrivò ai punti e la città fece festa. Calamati difese il titolo europeo per quattro volte prima di cedere all'inglese Barrett. Arezzo fece il possibile per fargli disputare il mondiale in città. Lo statunitense Padiglia si dimostrò troppo forte e Calamati abbandonò all'ottavo round. La sua carriera finì in pratica poco dopo quel match, datato 9 novembre 1993, con un record di 36 vittorie, due sconfitte e un pari. La storia di Fior di Giglio, come naturale, è più recente. 39 incontri da professionista, con 36 successi e tre sconfitte. Dal 2010 a oggi Dino, come lo chiamano tutti, ha messo in bacheca anche un titolo dell'Unione Europea, insieme a quello di campione intercontinentale, oltre a una semifinale mondiale. Resta il rimpianto per i due tentativi sfortunati all'Europeo contro V2 e A2. A 37 anni, dopo un periodo condizionato da qualche infortunio, Fior di Giglio ha riconquistato il titolo italiano nella categoria Super Welter, impresa quella dal valore doppio. Due grandi figure della box, ai quali vanno auguri e riconoscenza.